mondo durote buongiorno buongiorno a tutti allora volevo rendervi partecipi di una chicca di cui sono venuto a conoscenza proprio recentemente allora di che parliamo parliamo zona friuli carnia e monte zoncolan allora se dice un ciclista monte zoncolan lo conosce sicuramente perché è una tappa storica dove i più grandi campioni si sono scontrati su quelle pazzesche salite allora parliamo però del versante che da ovaro sale al monte dall'altra parte c'è l'altra strada per lo meno le due strade che conoscevo per accedere appunto al monte la seta del monte quella che spesso ventieri molto più larga molto più ben asfaltata a volte fanno delle gare in salita automobilistiche bene di recente sono un'altra conoscenza proprio da una persona un locale che c'è un'altra strada la strada vecchia per salire al monte zoncolano allora probabilmente qualcuno di voi la conosce già ma per chi non la conosce volevo rendervi partecipi si sale dunque si parte da sutrio dove ero appunto che sono auto conoscenza da sutrio si va a priola che è proprio un paese lì adiacente e dal centro di priola questa strada si arampica fino al monte zoncolano appunto come grande sorpresa perché appunto nulla conoscevo non ero mai stato informato anche perché se non conosci non sai che c'è non la cerchi neanche è arrivata così questa notizia e volevo appunto rendere partecipi di questa cosa dunque in sella in moto andiamo via che si va e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.